Si avvicina sempre più il 26 febbraio, giorno in cui si svolgeranno le primarie del Partito Democratico e a tal proposito interviene il PD San Cataldese, rivolgendo un invito alla cittadinanza a partecipare alle elezioni. Le primarie rappresentano un momento importante per la comunità del Partito Democratico, un esercizio di democrazia e di apertura a tutta la cittadinanza, si legge nel comunicato stampa firmato dalla segretaria del circolo PD di San Cataldo, Martina Riggi. Un momento di dialogo e confronto, pertanto ci auguriamo che San Cataldo parteciperà a questo importante momento di cambiamento per il nostro partito. Si potrà votare anche nei 26 in provincia di Caltanissette, in particolare a San Cataldo, i gazebo saranno in piazza Papa Giovanni XXIII, aperti dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Due i candidati alla carica di segretario nazionale del Partito, Elislein e Stefano Bonaccini. In un'ottica di un vero cambiamento all'interno e all'esterno del Partito Democratico, il mio sostegno va a Elislein, sottolinea la segretaria del circolo San Cataldese, per un nuovo partito democratico che non abbia timore di essere finalmente un partito di sinistra, femminista ed ecologista insieme, per un PD dei diritti civili e sociali per tutti e tutte, per un PD che sia finalmente la voce di giovani, donne e lavoratori, per un PD che sia dalla parte degli ultimi, dei discriminati, degli svantaggiati, dei precari. Ma per cambiare davvero il PD, il cambiamento deve partire da noi. Con Elislein il 26 febbraio, cambiamo insieme. Il mio voto per Schlein è ancora più convinto, data la presenza di Fausto Terrana, San Cataldese, giovanissimo segretario provinciale dei giovani democratici, come capolista per l'Assemblea nazionale, afferma ancora Martina Riggi. La presenza di Terrana, infatti, garantirebbe non solo un vero cambiamento per il PD, ma anche un'importantissima rappresentanza territoriale nel Partito Nazionale. Anche il deputato del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, fa riferimento a Fausto Terrana. La federazione di Caltanissetta ha avuto un importantissimo riconoscimento, vedendosi riconoscere nelle liste per l'Assemblea nazionale, a sostegno di Elislein, il ruolo di capolista in un collegio che ricomprende anche le province di Siracusa e Ragusa, spiega. La scelta è stata di un profondo rinnovamento, con la candidatura di Fausto Terrana, segretario provinciale dei giovani democratici. Un ragazzo di grande talento politico, ma questo riconoscimento è il frutto di un lavoro collettivo, come testimoniato dal risultato ottenuto nella consultazione degli iscritti che a Caltanissetta ha visto prevalere la proposta di Schlein. Per questo bisogna ringraziare, prosegue il deputato, anche coloro che non sono in lista, ma che attraverso i comitati locali, penso a quello di Caltanissetta con Carlo Vaginelli e a quello di Gela con Licia Bela e altri, hanno già dato un contributo determinante che sarà ancora più prezioso domenica con le primarie aperte, conclude, che mi auguro sia in una festa della democrazia e un punto di ripartenza del nostro partito nella provincia. Grazie a tutti.